E adesso è il momento della quarta categoria, andiamo velocemente a presentare Alberto Ferrandes, 14 anni, stavo dicendo 40 anni, non so perché, forse c'hai un'anima quarantenne tu, sei emozionato? Un po'. Lo vedo. Dai di un saluto ai nostri amici, anzi leggiti tu la frase Unicef. Tutto ciò che esce dalle nostre corde vocali è amore e sentimento, che va donato completamente a questi bambini. Bene, lui canta i migliori anni della nostra vita, un applauso a questo ragazzo, meraviglioso anche lui, dotato di grande sensibilità, devo aspettare? Vuoi troppo alta così, che dici? Ci siamo? In bocca al lupo. Non so che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello non è un'altra cosa, pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo, e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra, si alzi in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una potola segreta. Tutti vogliono tutto, per poi accargerci che niente, noi non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come puggini dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo, che non ci siamo mai perduti. E che tutta quella tristezza, in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Grazie. Ho stampato il rosetto rosso, sei di una sensibilità eccezionale, ti voglio bene. Bravo, bravo. Grazie. Grazie. Grazie.